La prostata è una ghiandola prettamente maschile, cioè ce l'hanno solo gli uomini. Serve infatti nel processo di produzione del liquido seminale. Ha le dimensioni di una castagna e il peso di nemmeno 20 grammi. Ma, pur così piccola, ha il potere di condizionare enormemente la tua vita. Capiamo perché e come possiamo fare in modo che la sua influenza contribuisca al nostro benessere anziché a un forte malessere. Abbiamo il privilegio di approfondire l'argomento con un vero esperto del campo, il dottor Paolo Giordo. Medico chirurgo specializzato in neurologia, e non solo, si è perfezionato nello studio delle medicine complementari, studiando, tra le altre cose, come l'alimentazione e lo stile di vita possano prevenire e addirittura curare i disturbi della prostata. Grazie ai suoi studi ha anche pubblicato un libro, Prostata, cure naturali e alimentazione. E oggi è qui con noi. Bentrovato, dottor Giordo. Cerchiamo subito di capire quali sono i sintomi legati alla prostata che dovremmo tenere d'occhio. Dal momento che, quando parliamo della nostra salute, ascoltare i segnali del corpo è fondamentale. Dottor Giordo, esistono indicatori particolari che dovrebbero spingerci a una maggiore vigilanza? I campanelli di allarme possono essere vari. Innanzitutto, siccome la prostata è quell'organo che si conforma intorno al collo vescicale, quindi nella parte inferiore della vescica e dove appunto il collo vescicale, attraverso l'uretra, poi va fino all'esterno. Quindi all'uretra peniena e quindi dove defluisce l'urina. Beh, se la prostata si ingrossa, innanzitutto avremo già un disturbo della minzazione. Cioè, il nostro urinare sarà un pochino più difficoltoso. Non avrà più il getto giovanile dei 20 anni. Sarà quello che è normale, che riduce un pochino l'intensità del getto. Ma soprattutto appunto avrà un po' di fastidi nell'urinare, che possono essere anche piccoli doloretti, brucioli, oppure il getto cosiddetto interrotto. Si comincia a urinare, poi si interrompe, poi si riprende e così via. Il gocciolamento finale, dopo aver finito di urinare ci sono ancora delle gocce che fuoriescono. L'aumento del cosiddetto residuo vescicale. Nel senso, quando noi uriniamo non suvotiamo completamente la vescica, perché ovviamente non c'è anche questa possibilità in quanto la vescica, il collo vescicale è stretto un pochino dalla prostata. Quindi talvolta appunto noi uriniamo, poi magari dopo un'altra mezz'ora, un'ora, dobbiamo andare nuovamente a urinare perché c'è rimasta un'altra quota di urina in vescica e così via. Senza contare poi ovviamente gli stati infiammatori e quindi a questo punto avremo un dolore, un dolore sovrapubico, un bruciore urinario, talvolta che può essere più o meno intenso e quindi accompagnato da altri sintomi infiammatori come febbre, malessere. Chiaro. Spesso sentiamo dire ho la prostata, al che a volte parte lo sguardo triste e l'unulato di commiserazione. A volte invece parte la risposta, certo che ce l'hai la prostata, ce l'hanno tutti gli uomini. Che cosa in realtà vorrebbero dire esattamente con quell'espressione? Ovvero, dottor Giordo, quali sono le patologie più ricorrenti della prostata? Le patologie fondamentali della prostata sono principalmente tre. Uno, l'ipertrofia prostatica benigna, diciamo, che ovviamente viene nei maschi dopo una certa età, quindi dopo i 50 anni, talvolta prima, talvolta ancora un pochino dopo, però insomma è un passaggio comune, diciamo, la prostata tende un pochino ad ingrossarsi. Poi le prostatiti croniche, cioè le prostatiti, le infiammazioni prostatiche, prostato, vescicali, eccetera, croniche perché poi quando si ripetono e quando sono effettivamente recidivanti, a questo punto si cronicizzano. E poi la terza eventualità è il tumore della prostata, che appunto negli uomini tutto sommato rappresenta ancora un buon percentuale di rischio. Quindi queste sono le cose fondamentali. Quindi patologie benigne e non. Ci sono test che possiamo considerare per stare più tranquilli? Un esame urologico, quindi accompagnato da un'ecografia o da altri esami del sangue, per vedere gli indici infiammatori, per vedere il famoso PSA, se è appunto normale oppure no. E quindi tutte queste cose possono diagnosticare appunto un problema prostatico, anche di che tipo, se è di tipo infiammatorio, infettivo, batterico, oppure se è soltanto un'ipertrofia prostatica benigna, come si suol dire, o addirittura una denoma della prostata, che può in qualche modo creare appunto l'ingrossamento, perché c'è questa formazione denomatosa che ingrossa la prostata e quindi con tutti i problemi adesso connessi. Per mantenere in salute la prostata, su quali aspetti possiamo intervenire? Ci sono degli aspetti generali, aspetti generali di salute prostatica. Se la nostra prostata deve stare in buon equilibrio, noi dobbiamo avere una regolarità e un equilibrio del nostro microbiota intestinale. è fondamentale ed è legato strettamente a tutta la salute immunitaria del nostro organismo. Quindi la microbiota intestinale ha un rapporto con il sistema immunitario. L'80% delle cellule immunitarie vengono formate nell'intestino. Quindi se noi abbiamo un intestino in disordine, uno squilibrio, una disbiosi, eccetera, eccetera, causa questo, causa una infiammazione generale. Infiammazione che può ovviamente riguardare qualunque tipo di organo del nostro tessuto, del nostro corpo, ma soprattutto può riguardare quell'organo di cui un individuo può avere una maggiore suscettibilità, una maggiore vulnerabilità. Per cui se uno c'è una familiarità per problematiche prostatiche, ecco che anziché avere un problema al fegato, per dire un individuo può avere la prostata molto più facilmente, e così via. Quindi regolare il microbiota intestinale, avere un'ottima idratazione, perché molte persone bevono molto poco, l'idratazione è fondamentale per tutti gli organi del corpo, è fondamentale non soltanto per avere una quantità adeguata di acqua dal momento che il nostro corpo è principalmente composto di acqua, e poi è fondamentale perché ovviamente cerca di eliminare il più possibile qualunque tipo di tossina, scoria, eccetera, attraverso il filtro renale, perché quindi l'intestino da una parte, le urine dall'altra, poi ovviamente c'è la pelle, ci sono i polmoni, eccetera, quindi se noi teniamo in equilibrio il nostro organismo, la prostata ne avvantaggia tranquillamente, e per tenere in equilibrio il nostro microbiota è fondamentale l'alimentazione, l'alimentazione nella prostata rappresenta, come nella maggior parte poi delle malattie, sia infiammatorie, sia oncologiche, eccetera, l'alimentazione ricopre, come tu perfettamente sai, un ruolo fondamentale. La cosa da evitare sono tutte le cose che creano poi infiammazione, infiammazione, soprattutto latticini. I latticini sono molto negativi per la prostata, perché i latticini vanno a creare poi uno stato infiammatorio secondariamente alla loro assunzione. In vita fisica, se ovviamente noi ci muoviamo e il nostro corpo si muove nello spazio, soprattutto in modo aerobico, beh, questo ovviamente migliora la circolazione, migliora l'ossigenazione dei tessuti, migliora anche tante reazioni biochimiche, per cui effettivamente questo aiuta ulteriormente la nostra prostata. Terremo a mente queste preziosi informazioni. Ci sono farmaci che vengono comunemente utilizzati per trattare le patologie della prostata? Sì, ci sono diversi rimedi. Normalmente si danno dei farmaci chimici che vanno ad agire su un enzima, il cosiddetto alfa-5-reduttasi. Questo enzima è quello che promuove la trasformazione del testosterone, paschile, in idrossi del testosterone. L'idrossi del testosterone è ovviamente la forma attiva del testosterone, ma soprattutto è quello che crea una maggiore proliferazione cellulare, e quindi in questo caso porta a un'iperplasia e a ipertrofia cellulare, che significano sia aumento delle cellule sia ingrandimento delle cellule stesse. Ora, ci sono dei farmaci che vengono utilizzati normalmente come ci sono altri farmaci cosiddetti alfalitici che invece rilassano la muscolatura perineale e quindi fanno sì che la muscolatura perineale faccia passare, defluire con maggiore facilità l'urina nel tratto appunto prostatico. Queste sono le cose chimiche, diciamo, che possono essere utilizzate, quindi... E ci sono alternative al classico farmaco di sintesi chimica che si sono rilevate efficaci in modo simile? In natura si possono utilizzare parecchie fitoterapici soprattutto. Uno dei principali è la Serenoa Repens o il palmetto e si usa normalmente. Devo dire che anche gli urologi tradizionali spesso in persone che chiedono loro di non utilizzare dei farmaci chimici gli danno la Serenoa Repens perché ha un effetto molto sfidile. Oltre alla Serenoa Repens quali altre molecole naturali si possono utilizzare? L'epilobio, il pigeo, pigeum africanum ci sono poi degli integratori come semi di zucca dal punto di vista alimentare lo stesso polline che i cinesi hanno utilizzato per secoli anche nelle problematiche prostatiche i semi di zucca oltre che così come sono possono essere utilizzati anche in olio si può prendere anche l'olio dei semi di zucca e usarlo anche come condimento eccetera. E esistono effetti collaterali? Certamente, tutti questi farmaci che vanno a inibire questo enzima talvolta possono dare qualche piccolo effetto collaterale quelli chimici sicuramente lo possono dare cioè sul libido sullo stato, sull'erezione quindi sui problemi sessuali quelli naturali diciamo è molto più difficile che lo diano però in qualche modo anche se in minima parte lo potrebbero dare anche loro. Bene, ringraziando il dottor Paolo Giordo per aver reso più chiaro ciò che riguarda questa piccola ghianda che spesso crea grossi disagi ora passo la ghianda a te se anche tu hai provato qualche rimedio naturale o cambiato stile di vita per la tua prostata condividi la tua storia qui sotto nei commenti il tuo racconto potrebbe essere la scintilla che aiuta qualcun altro a sentirsi meglio tenendo sempre a mente che prima di ogni nuovo passo è bene parlarne con il proprio referente medico la salute è un viaggio che facciamo insieme con la giusta guida la conquista per il benessere vive soprattutto nelle nostre scelte grazie a tutti